e poi parlato del giappone non siamo avanti solo con le ore ma siamo avanti anche con le feste qua il natale si fa il 25 novembre sono pazzi sti giapponesi da legare facciamo un po' i giubbini ma stiamo parlando che ci sono ancora 22 gradi ed è sera sono le nove di sera andiamo a vedere fuori andiamo a vedere fuori e poi RIVA SHARE Grazie a tutti. Grazie a tutti.